Siglato oggi a Pordenone un protocollo anti-rapina. I firmatari, Prefettura e Ascom, i negozi potranno installare un sistema di videoallarme collegato con le sale operative delle Forze dell'Ordine. Natascia Gargano. Più sicurezza negli esercizi commerciali e quindi nei territori. È stato sottoscritto in Prefettura, Pordenone, tra Prefetto e vertici locali di Ascom, Commercio e Confesercenti, un protocollo territoriale, attuazione di un accordo quadro nazionale siglato lo scorso febbraio, che prevede la possibilità di installare all'interno dei negozi e dei locali pubblici un sistema di videoallarme anti-rapina collegato direttamente con le sale operative delle Forze dell'Ordine sotto un'unica cabina di regia. Nel 2023 i furti negli esercizi commerciali in Friuli Occidentale sono saliti a 190, erano 155 nel 2022. Sono dati che vanno ad incidere sulla percezione di sicurezza, nonostante il territorio sia fortemente controllato, i livelli di sicurezza sono ai livelli massimi, è importante che si incida proprio sulla percezione di sicurezza.